Nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord-est. Dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al coronavirus in Friuli, Venezia e Giulia sono 3.284, una più di ieri. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli, Venezia e Giulia, 213, 8 in meno rispetto alla giornata di ieri. In terapia intensiva sono ricoverati 3 pazienti e ricoverati in altri reparti, rimangono 22. Si registra un decesso, 340 in totale. Dall'inizio dell'emergenza, informo una nota della Regione, sono 1.390 i casi positivi a Trieste, 989 a Udine, 691 a Pordenone e 214 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano 2.731, 8 più di ieri. I clinicamente guariti a 69, le persone in isolamento domiciliare sono 119. I deceduti 193 a Trieste, 74 a Udine e 68 a Pordenone e 5 a Gorizia. Risolto in 24 ore il giallo di Mortegliano Udine in carcere con l'accusa di tentato omicidio in concorso, ci sono un cittadino italiano di 44 anni residente a Tricesimo e un onduregno di 30 anni che abita Udine. Per la procura della Repubblica di Udine, sull'ascolta delle indagini svolte dai carabinieri del Nucleo Investigativo Provinciale, non ci sono altre persone coinvolte. La ricostruzione di quanto accaduto sabato mattina è ormai chiara. Le due persone arrestate, la vittima dello sparo, un cittadino afgano di 24 anni che si trova in ospedale in condizioni disperate e un connazionale di 23 sono giunte nella zona periferica del comune friulano per discutere di attività malavitose legate allo spaccio della droga. Si è accesa una discussione e l'italiano ha estratto una pistola regolarmente detenuta ad uso sportivo con cui ha sparato due colpi, uno dei quali ha centrato alla testa la vittima assieme all'onduregno e poi fuggito in auto mentre l'afgano rimasto illeso lanciava l'allarme. Nei confronti di quest'ultimo non sono stati presi provvedimenti giudiziari. Nella vicenda specifica è soltanto il testimone chiave. Ed ancora cronaca, dobbiamo per forza andare a Padova, vuole farla finita perché non ha più il cellulare. È salvata in Estremis, ha tentato il suicidio perché gli volevano togliere la possibilità di usare il cellulare. 19 anni, lei è stata rintracciata dagli agenti della Polfer, una ragazza che era arrivata alla stazione di Padova proprio con l'intenzione di togliersi la vita. Dopo aver ricevuto una nota di ricerca a rintraccio, la sala operativa della questione di Padova di una giovane donna che era uscita dalla propria abitazione manifestando ai vicini di casa le sue intenzioni, ha immediatamente adottato il protocollo operativo previsto in tali situazioni facendo predisporre la marcia a vista dei convogli ferroviari in entrate e in uscita. Gli agenti della Polfer sono riusciti a rintracciare la ragazza, di cui non è stato reso il nome, nei pressi dei binari in evidente stato di agitazione. Dopo averla avvicinata con cautela in modo da non creare ulteriori disagi, la giovane è stata rassicurata dagli agenti e condotta negli uffici. La ragazza, sentendosi a suo agio, ha raccontato di aver avuto una discussione con i genitori a seguito della quale gli avevano tolto appunto il cellulare. Per questo aveva deciso di togliersi la vita. Gli agenti hanno contattato immediatamente i suoi genitori con i quali è stato poi concordato un consulto medico presso l'ospedale di Padova. E' ripreso con l'udienza preliminare sulle citazioni dei responsabili civili il processo a carico degli ex vertice dell'azienda Miteni per l'avelemento da PFAS, sostanze plerfuor alchiliche, delle acque di falda di tre province del Veneto. La regione Veneto, costituita si parte civile, informa che le formalità della citazione dei responsabili civili si sono concluse regolarmente. Il giudice ha dato atto della correttezza delle notifiche effettuate da Palazzo Barbie Veneto sul fallimento di Miteni SPI e le due società controllanti. La società giapponese Mitsubishi Corporation Inc. che ha depositato l'atto di costituzione e la lussemburghese International Chemical Investors, la regione Veneto, spiega una nota dell'ente. ha dunque ottenuto che esse, in caso di accertamento della responsabilità degli imputati, debbano garantire con il proprio patrimonio risarcimento del danno cagionato al territorio e conseguentemente ai singoli cittadini veneti danneggiati dall'inquinamento. Il processo è stato rinviato all'udienza del 12 ottobre e all'inizio della discussione dell'udienza preliminare. Ed ora diamo la linea alla redazione di Treviso. Maltempo a Treviso e i vigneti del Montello diventano una pista per lo scinautico. Due amici sono arrivati in un campo di Cusignana, uno guidava un SUV, l'altro surfava. Diciamo, insomma, il video è divertente, virale, lo trovate in rete. Incidente sul lavoro alla Tubi Faber di Loria, operaio cade da 9 metri. Un 32enne di cittadella era al lavoro sul tetto dell'azienda, ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Caffoncello di Treviso. Godega muore a 17 anni per una cardiopatia. Affetto fin da piccolissima da una patologia al cuore, era ricoverato a Bologna. Il paese si stringe alla famiglia. Il paroco ha detto Leonardo amava la vita, genitori e sorella sono stati straordinari. Treviso l'artista Pino Filippone muore dieci giorni dopo la moglie. Il pittore, scultore e scrittore aveva 82 anni. Due sue opere sono al museo Bailo. Pochi mesi fa aveva donato una crocifissione linea alla parrocchia di Monico. Traffico di droga, 5 arresti, sgominata la banda italo-albanese, operazione della squadra mobile di Treviso, il Reggio Calabria e dei carabinieri di Como, coordinati dalla procura distrittuale di Venezia. Incella anche l'autore di un regolamento di conti in seno alla banda che portò all'omicidio di uno dei membri dell'organizzazione criminale. Rosario Moreno, Treviso per Radiodiffusione Europea. Un piano ben definito per settembre che garantisca sicurezza e didattica. E' quanto hanno chiesto oggi, in occasione dello sciopero della scuola, i rappresentanti territoriali di Cigelle, Cisl, Will, Snars e Gilda, durante un incontro a Trieste. Richieste indirizzate al ministro dell'istruzione Lucia Zolina e che saranno consegnate anche all'assessore regionale Alessia Rosoleng perché se ne faccia portavoce. Al centro della protesta hanno spiegato i sindacati la preoccupazione per il futuro di 23.600 studenti della provincia di Trieste e degli oltre 141.000 alunni del Friuli Venezia Giulia, del personale scolastico e delle figure collegate al mondo della scuola. Le sigle hanno ricordato che oggi mancano non solo un piano straordinario di investimenti per garantire le condizioni di sicurezza dell'attività ma anche un piano di assunzioni. Gli italiani considerano il mare un bene da tutelare con urgenza ma solo il 47% ritiene di avere un buon livello di conoscenza sul tema e il 75% sa poco di fondali. La maggior parte, l'84%, è consapevole che il mare sia gravemente a rischio ma conosce solo alcuni fattori di pericolo. Inoltre c'è poca consapevolezza sulle attività di ricerca svolte nel paese. Il quadro delineato dalla ricerca agli italiani e la tutela del mare e dell'ambiente presentata oggi a Trieste dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, l'OGS, è condotta da SVG su un campione di 1.515 persone in occasione della giornata mondiale degli oceani. In chiusura parliamo di sport e di calcio. Il Consiglio federale finalmente ha deliberato le regole per la conclusione della stagione di Serie C fermata il 25 febbraio per l'emergenza sanitaria del coronavirus. La regular season è sospesa ma si giocheranno i play-off tra le prime dieci di ogni girone per determinare la quarta promozione in B, promosse ieri Monza, Vicenza e Regina, cioè le prime di ciascun girone. La Triestina che risultava ottava nella classifica ponderata del girone B se la vedrà al primo turno in trasferta con il Piacenza, settima in classifica, con l'obbligo di vincere per passare il primo turno. La gara è prevista per domenica 5 luglio. Le squadre che decideranno di non partecipare ai play-off, e tra queste potrebbero esserci anche proprio il Piacenza, ma la decisione non è ancora stata presa dagli emiliani, non saranno penalizzate e daranno soltanto il via libera all'avversario di turno senza scendere in campo. I play-off comunque dovranno terminare entro il 20 di agosto. Domani, sul Friuli Venezia Giulia, nella notte primo mattino, probabili rovesci e temporali sparsi con piogge localmente consistenti. In giornata variabilità, con la possibilità di qualche ulteriore isolato rovescio o temporale, sulla costa al mattino soffierà vento debole o moderato da est-nord-est, poi brezza. Passiamo al Veneto. Cielo irregolarmente nuvoloso, con alcune schiarite soprattutto sulle zone pianeggianti e in mattinata. Temperature minime in diminuzione, massime senza notevoli variazioni o in locale aumento sulla pianura meridionale e nelle valli. Previsioni a cura di ARPA-FWG Meteo e di ARPA-Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto. Appuntamento alla prossima edizione. Grazie. 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 Grazie.